Uno studente su quattro in Puglia è sotto la soglia minima di competenze matematiche e uno su se non raggiunge le competenze di base in lettura. È quello che si vince dal rapporto Illuminiamo il futuro realizzato da Save the Children su tutto il territorio nazionale. La fotografia mostra una generale povertà economica ed educativa che parte già dai primi anni di età, se si pensa che solo il 4% dei bambini tra 0 e 2 anni riesce a frequentare l'asilo. La situazione non migliora in fascia scolare dove ben l'84% delle scuole primarie pugliesi non offre il tempo pieno e il 74% dei minori non accede ad attività recreative, sportive, formative e culturali. La qualità dell'apprendimento come si vince dal rapporto dipende anche dalle caratteristiche della scuola frequentata. La connessione internet migliorerebbe la competenza sia matematica sia in lettura, ma in Puglia il 29% delle aule non è connessa. Un ruolo importante lo svolgono anche le attività extracurricolari che aiutano a recuperare i minori più svantaggiati. Attività preclusi agli studenti pugliesi nella qualsi totalità dei casi. Il 91% degli studenti di 15 anni frequenta scuole che non prevedono attività extracurricolari. Nel frattempo l'Aggiunta regionale pugliese ha approvato il ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge sulla buona scuola, dopo il parere favorevole espresso dall'Avvocatura regionale.